Ciao ragazzi benvenuti ad una nuova puntata di video serio serissimo Bene ragazzi adesso vi mostrerò un video molto serio Oh gli sposi, gli sposi Cazzo Varfugli, Varfugli I Andrew Paul Daniel Ingström I Andrew Paul Daniel Ingström Do take Melissa Renee Warren To be my waffly wedded wife To be my waffly Waffly, waffly I've been scared of this all my life Just give her a second Inchidda Inchidda Pelo di gente Inchidda Cos'è fumato? Cos'è fumato? I Andrew Paul Daniel Ingström Un bongo cos'è? Un bongo gigante 5 minuti prima Waffly, 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 pan channel Un bongo gigante il magazzino col nero guarda che porcelloni sti due come si spoglia e quindi che? si metto il porno? po 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 ma che figura di merda po 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 e chissà da quanto tempo sapevano che voi imboscavateli bene ragazzi anche questo video è giunto al termine spero vi sia piaciuto vi siate divertiti alla prossima a